Il 2024 è l'anno dei matrimoni VIP, ormai lo abbiamo capito. Mentre cresce la curiosità per quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si celebrerà domani, 30 giugno, in Toscana, a giurarsi amore eterno due giorni fa sono stati Martina e Marisio Neviani, la figlia della moglie di Nec Patrizia Vacondio, e Niccolò Taroni. Il cantante travolto dalle emozioni ha condiviso sul suo profilo Instagram gli scatti del matrimonio. Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l'altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna moglie donna in carriera. Il tempo è volato. Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì punto che in tanti di noi fossero lì, addirittura c'era la bisnonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio, una vera grazia. È nata una nuova famiglia. Dio e noi ne eravamo testimoni. Martina nata il 16 marzo del 1995 e non è la figlia naturale di Nec anche se lui l'ha praticamente cresciuta. La ragazza ha deciso di farsi accompagnare all'altare da entrambi i papà, il biologico e Nec. Martina e Marissio Neviani è il frutto della relazione di Patrizia Vacondio, moglie di Nec, con un altro uomo con cui il cantante ha un ottimo rapporto. Nec e Patrizia si sono messi insieme quando Martina aveva un anno e non si sono mai più lasciati, dal loro amore nel 2011 è nata poi Beatrice. Abbiamo protetto Martina nel migliore di modi. «Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre con cui ho un bellissimo rapporto», raccontò Neca Vanity Fair. Il matrimonio a Pietrasanta, chiesa e location. Martina e Niccolò hanno celebrato le loro nozze nel Duomo di Pietrasanta Lucca. Tra una nuvola di nebbiolina rosa e candele dopo la cerimonia in chiesa gli sposi si sono spostati al Paradis Pietrasanta. Il boutique hotel di 12 camere inaugurato nel 2021 ha un'azienda agricola al suo interno e un agriturismo di lusso situato nella tenuta di 9 ettari, luogo dove si è svolto il ricevimento di Martina e Niccolò. L'allestimento floreale. Tavoli imperiali nel giardino antistante la serra della location. I colori degli allestimenti floreali era dai colori tenui, centrotavola scomposti e tante candele. Una mise in plasse elegante bianca con piatti decorati di verde. Uno stile bohemian che si ritrova in tutto il matrimonio, dagli inviti al corner per i selfie, un aspecchio gigante incorniciato da un cordolo di foglie di felce colorate. L'abito della sposa. Uno stile sobrio e naturale che la sposa ha scelto anche di indossare. Uno scivolato bianco impreziosito da un corpetto sapientemente ricamato e una gonna di tulle. manicotti trasperenti e ricamati con ali di pipistrello che donavano ancora più leggerezza all'outfit. Un velo lungo ma semplice in chiesa e capelli sciolti. Nessun gioiello, nessun make-up estremo a snaturalizzare la ragazza. Lo stile beau chic lo ritroviamo anche nel bouquet. Un mazzo di fiori importante e scomposto creato con peoni e rose oltre che fiori secchi il tutto chiuso da un nastro di lino sfrangiato. E a noi viene voglia di dire, bentornata eleganza.